buon dis motas a tutto loro signoris allora ho visto un bellissimo video come allenarsi quando l'età avanza di chi scusate il traballamento sto passando la mano del mitico miletto allora non ce l'ho con lui come non ce l'ho con nessuno però dice delle cose che non mi trova d'accordo cioè parla dell'allenamento dei cinquantenni dei sessantenni settantenni allora non è che perché lui ha 40 anni dico che non può parlare di allenamento per uno di 50 60 anni come sottoscritto ma allo stesso tempo dico guarda non ci sei ancora arrivata a quell'età non lo sai come ci si sente sia fisicamente che psicologicamente cioè la condizione psicofisica di quell'età da un punto di vista personale perché non ci sei arrivato non la conosci quindi certo che hai la preparazione per poter parlare certo che hai un'esperienza per poter esprimere un tuo parere certo che sei una persona comunque consapevole e dotta sull'argomento ma comunque nel computo nell'equazione totale devi tenere presente che quell'età non ce l'hai e non sai tu come ti senti che poi è una condizione similare a molte persone no cioè quella stenia quella stanchezza che ci si ritrova a una certa età ora mi sono fatto anche una scalettina e vorrei riportare alcune cose e fare una critica concreta senza buttare merda per carità di dio anche lui è un altro di quelli del politicali correct per carità ognuno io provengo purtroppo da una generazione dove si era un po più grezzi dove si era un po più pragmatici e soprattutto i politicali correct lo facevano solo le persone altolocate e molto ipocrite non voglio dire che adesso chi usa politicali correct sia così però provengo da una generazione diversa quindi capitemi se a volte ho degli atteggiamenti che seguono questo questo modo di essere modo di pensare generazionale allora scalettina lui dice nel video quello che fa bene a un ventenne fa bene a un trentenne a un quarantenne a un cinquantenne a un sessantenne a un settantenne non è così non è così allora è ovvio che quando abbiamo vent'anni abbiamo una disponibilità psicofisica e a 60 70 50 40 un'altra lui questo lo dice ma in un modo tutto suo lui in poche parole dice che tu puoi fare le stesse identiche cose ossia un'età che all'altra e poi specifica se c'è la salute articolare se una in buona salute il problema è questo caro miletto che forse tu non riesci a comprendere nel video che la salute articolare uno di 60 70 anni nella stragrande maggioranza dei casi non ce l'ha è un dato di fatto non c'è poca 80 non c'è sono poche quelle persone che non hanno acciacchi che non hanno dolori con il cambio di stagione parlo di dolori forti che non hanno problematiche che non si sono mai rotte un osso e quindi appena viene a piovere sono dolori e quel giorno che ti va allenare sono cazzi a vent'anni quei cazzi scusate il termine non ce li hai ora quindi dire se sei in salute articolare a 50 60 70 anni il problema è quello che non ce l'hai quella quindi è un discorso che si perde un po' per strada cazzo vuol dire cioè se hai la salute articolare e se vabbè se mia nonna aveva le ruote era una cariola cazzo vuol dire tu devi partire dal presupposto che a quell'età non ce l'hai anche la salute psicofisica non ce l'hai ok cioè non è uguale a quello di quando è il più giovane ma in modo deciso ok allenarsi tre quattro volte la settimana non c'è problema anche per un quarantenne un cinquantenne un sessantenne allora preciso una cosa che dice corretta è che tutto è relativo e questo è vero c'ha ragione ma al tempo stesso si cerca di fare un ragionamento nella media cercare di andare a prendere generalizzando perché se vai a prendere caso per caso allora non vale neanche la pena fare i video no nel senso neanche prendiamo l'argomento generalizzando quello che ho detto prima tre quattro volte la settimana uno di 50 60 70 anni non può reggere quei ritmi parlando come dice lui nel video un'ora un'ora e mezza di allenamento uno che anche in pensione tutto quello che vuoi ma due tre quattro volte potrebbe passare il tre forse ma la vedo anche dura ma il quattro poi ripeto tutte le persone in là con gli anni a molti viene il diabete a molti su sindrome metaboliche indipendentemente che poi lui dice se uno è allenato non è allenato bisogna vedere certo è di un'ovvietà chiaro che se uno a 65 anni va in pensione si allena per la prima volta avrà un casino di problemi ad adattarsi ma è normale cioè è di un'ovvietà assoluta e il l'altro punto che volevo toccare guardando la mia bellissima scaletta guardate che classe guardate che scaletta che faccio è cioè guardate guarda qua che scalettina è minchia voglio tecnologia manetta minchia editor video ave facciamo i coglioni ogni tanto quello che voglio dire scusate per il traballamento ma sto facendo tutto così eh di fretta istintivo questo video diciamo così perché mi ha fatto un po' girare le palline eh quando lui dice i fondamentali certo che può fare punk può fare squad certo che può fare squad può fare military play certo che può fare stai dicendo cazzate certo che stai dicendo no adesso senza essere offensivo ma che cosa dici il dispendio eh del sistema nervoso che come sappiamo è la parte nostro corpo che è più lenta recuperare a recuperare dispendio energetico quello muscolare recupero energetico recupero muscolare e non per ultimo ma per primo il dispendio e recupero nervoso è quello dove facciamo più fatica soprattutto noi che abbiamo una certa età dove andiamo a consumare molto il sistema nervoso con i fondamentali perché se noi facciamo la panca al multi power risparmiamo una fatica al nostro sistema nervoso della madonna certo che uno a vent'anni deve fare la panca normale o anche a trenta passati quaranta il discorso può cambiare soprattutto in funzione della propria salute che nella maggior parte nei casi poco tanto non c'è cazzo mi letto cazzo lo devi dire questo scusatemi eh c'è sarà perché io ho quasi vent'anni più di lui che allora magari no conosco la situazione un po' più a fondo da punti secondo meno personale quindi quando mi dice ma certo che puoi fare i fondamentali a 60 50 70 anni ma no ma se a me come mi succede mi viene una persona in là con gli anni mi arriva un sessantenne che lo vedo che non è uno che si è allenato una vita che però ha un fisichetto ha portato sempre avanti le sue due tre allenamenti a settimanale anche quando lavorava va in pensione ce n'è uno adesso in quota 162 anni ha detto adesso mi posso più dedicare all'allenamento la prima cosa che ho fatto gli ho tolto i fondamentali liberi cioè gliel'ho lasciati ma guidati la panca piana panca inclinata panca declinata tutto il multipower pressa tutto il multipower non è che li devi eliminare del tutto capiamoci ma li devi mettere guidati usando principalmente il multipower rematore rowing machine pulei l'oppisi liberi a uno di 60 70 anni gli macili gli maciuli sistema nervoso nel senso che poi ci impiegherà di più a recuperare e rendimento non c'è bella volete sapere questa questo signore infatti mi ringrazio allora allenandosi come si allenava secondo il vecchio programma che gli aveva fatto un altro personatrone adesso ha cambiato casa è venuto qua e ha preso me ok sempre dolore alle ginocchia squat ovviamente sempre dolore alle spalle ovviamente manubri pesi liberi da quando gli ho inserito con gli stessi quasi praticamente gli stessi pesi senza diminuire il peso gli ho inserito i fondamentali non tutti gli ho levato lo squat e gli ho messo l'ex squat alla macchina gli ho messo i fondamentali tipo la panca alta military press panca piana panca declinata al multi pover gli sono quasi per incanto spariti i dolori quantomeno attenuati tantissimo si sente più fresco si sente più perché ma è ovvio il sistema nervoso è il sistema nervoso riesce a allenarsi le stesse volte come frequenza di prima ma con meno stress nervoso perché il sistema nervoso a una certa età col cazzo che recupero come quando c'è vent'anni non è la stessa roba non è la stessa roba se con tante esperienze di allenamento come sottoscritto puoi ancora contenere il recupero energetico e muscolare cose che io riesco e tanti che si allenano da anni riescono quello che non riesci più a recuperare è il sistema nervoso o che cazzo se ne vogliamo dire che il recupero nervoso di un ragazzo di 20 anni è lo stesso di uno di 70 non hai capito un cazzo mi letto scusami ma non voglio essere offensivo ma è così poi non mi puoi dire ma io sottotendevo però l'ho detto no tu hai parlato di salute articolare di problematiche legate alla salute ma io ti dico anche uno sano anche uno con una salute articolare della madonna che ha 60 anni anche uno che non ha problematiche le avrà con il sistema nervoso perché a una certa età non recupera più o perlomeno recupera con dei tempi più lunghi per quelli per quello che in molti casi vanno tolti i fondamentali liberi non i fondamentali guidati you know vabbè precisazione d'obbligo signori sempre il nostro caro ditelo voi motta ciao a tutti viva milette un grande però ecco la sua zetta con la sua zeppa in bocca mi fa morire simpatico però dai adesso secondo me ha detto un po di cazzate però simpatico bye bye ciao a tutti